Io credo che abbia sbagliato completamente tutte le mosse. Probabilmente lui davvero ha avuto un delirio di onnipotenza in quel momento. Era considerato, forse anche a ragione, l'uomo più potente d'Italia in quel momento in politica. Non ci dimentichiamo che stava cercando di gestire un ministero importante come quello dell'interno dal papete. Tutto sommato stava... Adesso il papete, lo stai tirato e tira tutte le volte il papete, non va al mare. No, 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 al mare ci vado anch'io, l'ho detto prima, non c'è niente di male. E ha diritto ad andarci Salvini come chiunque altro. Ma un conto è andare al mare in vacanza al fine settimana come tutti gli italiani con la famiglia. Un conto è trasferire in piena attività del Parlamento e del Governo il proprio ufficio in uno stabilimento balneare. Fare conferenze stampa, dire che si scelgono lì i commissari europei. Tutto questo mentre purtroppo a Roma c'erano problemi di sicurezza vera per le strade, persone che venivano uccise per le strade. Grazie. Grazie.